Sono dei sistemi di faglia accuratamente progettati che servono per mantenere separati i vari elementi che compongono una società mettendogli gli uni contro gli altri per impedire che si trovino d'accordo. E per esempio se noi guardiamo a una situazione che abbiamo in mente di cambiare abbiamo due possibilità. Si può trovare una soluzione e noi siamo pieni zeppi di soluzioni oppure possiamo essere intelligenti e eliminare la causa del problema. E l'unico modo in cui i pochi possono continuare a dettare legge ai molti nella misura in cui lo stanno facendo è l'acquiescenza e la paura di esprimere se stessi in qualche modo, la paura dell'autorità. E quindi far sì che ciascuno di noi sia messo contro l'altro agendo sulle linee di separazione che sono legate al credo, alla religione, al partito politico, alla preferenza, al reddito, alla fascia sociale. E siamo tutti talmente impegnati a combatterci, a competere, a farci la guerra, a dimostrare che siamo gli uni nei migliori degli altri, che non riusciamo a trovare il tempo per guardare su e vedere che ciascuno di noi è legato a dei figli come un burattino. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo fare tante belle cose. Sicuramente ciò che dobbiamo fare è lasciare da parte tutte le cose che artificiosamente sono state costruite per separarci e dividerci e rendereci conto che siamo tutti nella stessa barca. Questa non è una cospirazione rivolta ad isolare gli ebrei, i cristiani, i musulmani, gli appartenenti alla classe media americana. Questa è una cospirazione per rendere schiavi tutti noi. E' una cospirazione che può avere successo soltanto se noi continuiamo ad essere acquiescenti, ad accertare. E' una cospirazione che è una cospirazione del sistema di controllo. E naturalmente ci sono tanti focolai di protesta che vediamo oggi nel mondo. E questo va benissimo perché è un modo per esprimere i sentimenti delle persone. ma non è una vera minaccia, una minaccia che fa paura al sistema di controllo. E infatti il sistema è comunque in grado di manipolare le persone che sono uscite a manifestare in strada. Lo stiamo vedendo nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Perché come lui ha scritto vari anni fa il sistema, l'establishment vuole che ci siano delle rivolte massicce con enormi numeri di persone proprio in questa parte del mondo. Per delle ragioni che spiegherà meglio il sabato. Quindi se noi tutti usciamo per strada ci mettiamo a protestare e poi ce ne torniamo a casa e continuiamo a fare sempre le stesse cose. Abbiamo forse scaricato un po' di rabbia, un po' di frustrazione. Ma non abbiamo cambiato niente. Un milione di persone hanno manifestato per le strade di Londra contro l'invasione inglese dell'Iraq. Prima che succedesse si sono apposti. E che cosa è successo alla fine? L'Iraq è stato invaso. Quello che fa paura al controllo non è una protesta di massa e poi ognuno se ne torna buono a casa. Il modo in cui noi possiamo continuamente agire è smettendo di ubbidire a delle leggi che sono fatte soltanto per tenerci in schiavitù. E se noi continuiamo a pensare che è importante che noi ubbidiamo alle leggi perché le leggi sono state approvate dal Parlamento. E tanto vale potremmo uscire per stare e farci mettere in manetta adesso. Perché se ci riflettiamo bene vediamo che cosa succede. Noi siamo andati a votare. Abbiamo votato per diverse maschere che sono tutte sulla stessa faccia. Le maschere durante la campagna elettorale ci hanno raccontato che avranno a fare A, B, C, D. E quando vengono eletti e sono al potere finiscono per fare T, V, Z. non c'è un contratto per il quale chi ha promesso di fare qualcosa in campagna elettorale e poi è tenuto effettivamente a farlo. Quindi noi votiamo per questi signori, li alleggiamo, vanno al potere e fanno esattamente l'opposto di quello che avevano promesso. E quindi nel momento in cui noi continuiamo a credere di dovere obbedire a una legge che è stata approvata dal Parlamento non facciamo altro che fare il loro gioco ma loro hanno fatto delle leggi che andavano esattamente contro quello che avevano dichiarato. E questo succede da sempre in tutti i paesi del mondo. Siamo noi che dobbiamo riprenderci il nostro potere. E quindi dovremmo dire nel momento in cui le vostre leggi saranno emanate nel rispetto della dignità, dell'eguaglianza, dei diritti del mondo. Sì, ok, non è un problema. Allora io sarò propria rispettarle. Ma laddove le leggi che voi avete fatto attaccano le libertà fondamentali degli esseri umani, laddove queste leggi servono soltanto a togliere ancora soldi a chi è povero per arricchire chi è già ricco come le banche in maniera davvero grottesca. E per arricchire le banche attraverso i governi si è costretti a togliere i soldi che vanno nella previdenza sociale per i poveri. Bene, per tutte queste cose noi non siamo pronti a cooperare. E quindi oggi in tutto il mondo ci sono milioni di persone che sono state buttate fuori dalle loro case perché non possono più permettersi di pagare il mutuo perché sono rimasti senza lavoro perché le banche gliel'hanno ipotecate e li stanno sbattendo fuori da casa loro. Quale ingiustizia più grottesca e quale attacco peggiore si può immaginare di questo? E le persone cosa fanno? Se ne vanno, se ne vanno da casa. Se le persone riuscissero a rimanere dove sono e si rifiutassero di essere sfrattati dalle banche che li vogliono fuori, il sistema non riuscirebbe a gestire il numero enorme di tutti quelli che si ribellano. E quindi la cosa importante a questo punto è organizzarsi cominciare a organizzare dei gruppi di sostegno, dei gruppi di attività che siano in grado di coordinare questo enorme sforzo coerente e pacifico, non violento di interruzione del rispetto delle leggi. Non abbiamo bisogno di combattere per la libertà e di combattere per la pace. Nel momento in cui combattiamo qualcosa, diventiamo quella cosa contro cui stiamo combattendo. E quindi se noi abbiamo un atteggiamento violento nella nostra azione, il sistema è giustificato nel risponderci con violenza. E invece la cosa a cui il sistema non è capace di rispondere perché non riesce a gestire i numeri è l'idea di smettere insieme in massa di cooperare con questi sistemi ingiusti. E quindi quando noi cominciamo ad agire in questo senso saremo scioccati nel renderci conto di quanto è enorme il potere che abbiamo nel ribellarci e quindi quanto è enormemente più grande di quello che pensavamo di poter avere. E quindi se noi andiamo a contare i numeri delle persone coinvolte, il potere di controllo del sistema nei confronti dell'umanità è soltanto rinforzato dalla percezione che l'umanità ha che ci sia qualcuno capace di controllarlo. E quindi l'unico modo in cui effettivamente pochi riescono a controllare come una cosa enorme di persone è manipolando la percezione che le persone hanno del proprio potere e della capacità di cambiare le proprie vite. E quindi per ritornare al punto di partenza perché come nel gioco dei puntini tutto è collegato a qualcos'altro la ragione per cui ci vogliono tenere incollati a questa falsa identità del io poverino che ho così poco potere è soltanto perché nel momento in cui la massa delle persone accetta questa lettura della propria identità i pochi riescono a controllare i tanti. E un'altra cosa che conferma questa proporzione numerica è che non solo il potere è costantemente costretto a tenerci separati per il principio del dividere impera e continuare a renderci convinti che non abbiamo nessun potere ma sono talmente pochi là che devono costantemente reclutare dalla popolazione che vogliono controllare per trovare le persone che si mettono il vestito grigio o la divisa ma ci ha imparato e in force